Questa è altera Questa è la pillola della conoscenza Questa è la pillola dell'entusiasmo Grazie Stefano Eccola qua la mia pillola La pillola dell'energia A te Mari Grazie Fede Questa è la pillola del futuro Anche se può sembrare strano parlarne in questo momento con pochi punti fermi A te Camilla Grazie Questa è la pillola del dono Visita il sito www.alteracultura.org Sostienici Grazie Questa è altera Un concentrato di pillole di benessere